In questo momento ci dobbiamo fidare di quello che ci ha detto con la profonda. Usa un missile teleguidato per distruggere il quadro comandi. Si trova nella sezione nord-ovest del secondo piano interrato del deposito delle testate. Accertati che il missile teleguidato non venga battuto dalle telecamere armate. Salve a tutti, io sono Gabri Costa. Voi dovete sapere che questa è la strada per arrivare dall'ingegnere capo del Metal Gear, il dottor Alemeric. Dovete fare attenzione, non potete passare quando c'è il pavimento elettrificato. Per distruggere il quadro comandi, l'interruttore dell'alto voltaggio, bisogna usare un missile teleguidato che si trova nella sezione nord-ovest di questo secondo piano interrato. Ma ricordatevi che il missile teleguidato non venga battuto dalle telecamere armate. Bene, abbiamo distrutto il quadro comandi, abbiamo distrutto l'interruttore dell'alto voltaggio e speriamo che vi è piaciuto questo video, ragazzi, ha fatto Gabri Costa. Se volete salvare Alemeric è lì che vi aspetta. La prossima volta ricordatevi che il missile teleguidato non deve essere abbattuto dalle telecamere armate.